La capitale europea del turismo en plein air, Cavallino Treporti, sta per compiere 60 anni. La spiaggia, che piace tanto ai popoli del nord, ha iniziato la sua attività nel 1955 e da allora ne ha fatta di strada, visto che è diventata la numero uno assoluta del settore. La crescita è inarrestabile nonostante la crisi e le idee non mancano. Quest'anno, ad esempio, si è svolta la prima edizione di Camping Discovery, la fiera del campeggio, con 50 espositori da tutto il mondo e da qui sono partiti i campeggi a 5 stelle. Vacanze a 5 stelle anche per i campeggi. Siamo in un'area, quella di Cavallino Treporti, che può vantare un primato eccezionale, quello di avere i campeggi più belli d'Europa. Una recente legge, la legge 11 del 2013, ha anche dato una nuova impostazione per quanto riguarda la classificazione dei campeggi. Finalmente anche loro potranno freggiarsi delle 5 stelle per ribadire un'altra volta la qualità dell'offerta turistica del Vento, che è ciò che stimola di più il turista quando sceglie queste terre per le proprie vacanze. I primi mesi del 2014 stanno avendo un riscontro positivo dopo un 2013 caratterizzato dal calo di italiani, greci e spagnoli, ma dall'aumento di turisti dal centro e nord Europa e anche dall'est, conquistati sicuramente dal contesto naturale combinato al tipo di servizi, come ad esempio l'accessibilità e le attrezzature per disabili. Insomma, un insieme di fattori per cui anche quest'anno Cavallino Treporti è bandiera blu.